Per la Corte d'Assise di Palermo, che per l'omicidio dell'avvocato Enzo Fragalà ha condannato Francesco Arcuri come mandante, Antonino Abate come esecutore materiale, Antonino Siragusa e Salvatore Ingrassia per aver partecipato in concorso al delitto, il movente del feroce assassino è chiaro, un monito, un tentativo di condizionamento verso la stessa libertà dell'attività forense. Lo scrivono i giudici della prima sezione della Corte d'Assise nelle 665 pagine delle motivazioni della sentenza. Una lezione è finita in disgrazia, come hanno ripetuto a processo imputati e collaboratori di giustizia. Doveva essere solo una passata di colpi di legno, ha dichiarato a più riprese il pentito Antonino Siragusa, uno dei condannati per l'omicidio dell'avvocato Fragalà che ha confessato di aver preso parte alla spedizione punitiva, finita con la morte del professionista ucciso alle 20.30 del 23 febbraio del 2010 in via Torrisi sotto il suo studio. Doveva essere punito per le sue aperture agli inquirenti, per il suo comportamento difforme dalle regole di Cosa Nostra, per la quale Fragalà non faceva l'avvocato ma il carabiniere, dal momento che cercava di convincere i suoi assistiti a collaborare con la giustizia. Questo si legge nelle motivazioni della sentenza depositata la scorsa settimana dal presidente della Corte d'Assise, Sergio Gulotta. I giudici evidenziano ancora una volta che la pista passionale, secondo cui Fragalà sarebbe stato punito per delle avanza la moglie di un detenuto, non solo non ha trovato riscontri ma è stata smentita. Invece proprio nell'esercizio dell'attività professionale risiede il movente dell'efferata aggressione, dice la Corte, e intento precipuo dell'organizzazione mafiosa era quello di impartire una punizione. Una punizione, si legge nella sentenza, che per le modalità attuative e la notorietà della vittima designata, doveva assumere una evidente valenza simbolica e dimostrativa rivolta non già al solo professionista direttamente coinvolto, ma anche all'intera avvocatura palermitana.